Sono capolista in parecchie circoscrizioni elettorali, sì. E si candida a premio, è la sua candidatura a premio, sì, lei ha parlato di rappresentanti. Ho detto che aspetteremo fino all'ultimo secondo per vedere se c'è qualcuno di componibile. Naturalmente, questo ha un valore testimoniale, però come giornalista non posso che essere il primo a riconoscere. La legge elettorale che ci obbliga, il capo dello Stato ha ricordato che però siamo in un regime parlamentare e ha ragione. Domande? 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 Domande?